Crolli il tetto di un magazzino a Naro, un 39enne, perde la vita. Scosse sismiche nel sud-est della Sicilia, la prima ieri sera, la seconda all'alba. Controlli dei carabinieri nel Nisseno, diversi segnalati all'autorità giudiziaria. Caltanissetta nella serata di mercoledì, caduta di calcinacci in Viare d'Italia, intervento dei Vigili del Fuoco. I festeggiamenti in occasione dell'Immacolata Concezione a Caltanissetta e a San Cataldo. Bentrovati studio con l'edizione di oggi del Telegiornale. Apriamo parlando di Cronaca. Crolla il tetto di un magazzino a Naro, un 39enne, perde la vita. Un vetraio di 39 anni di Naro in provincia di Agrigento, Michele di Gerlando, è morto dopo il crollo del tetto di un magazzino in via Gran Priorato nel centro storico. L'uomo è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I medici di guardia, valutate le gravi condizioni, hanno subito allertato la centrale operativa del 118, che da Caltanissetta avrebbe dovuto inviare un elisoccorso. Purtroppo non c'è stato il tempo perché l'uomo è deceduto. Il 39enne era sposato e padre di due figli. Sul luogo, intanto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione, il tragico incidente si sarebbe verificato mentre di Gerlando stava svolgendo dei lavori all'interno della costruzione. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto. Scosse sismiche nel sud-est della Sicilia, la prima ieri sera, la seconda, all'alba. La Sicilia torna a tremare. Nelle ultime ore si sono verificate due scosse sismiche nel sud-est dell'isola. La prima, di magnitudo 4,1, è stata registrata alle 21 e 26 ieri sera in provincia di Catania. L'epicentro, calcolato a 10 chilometri di profondità, è stato individuato a 4 chilometri a sud-est da Mazzarone, ultimo paese della provincia di Catania, al confine con quella di Ragusa. Il sisma è stato avvertito in molti centri della Sicilia orientale e molte persone sono uscite in strada. La scossa è stata anche percepita in maniera nitida allicata, in provincia di Agrigento, dove diversi cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine per avere ulteriori informazioni. All'alba, un'altra scossa di magnitudo 2,9 è stata registrata a 5 chilometri a nord-est di Rosolini, in provincia di Siracusa. L'evento sismico, avvertito alle 4 e 46, è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri. Fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze. Non si segnalano, infatti, danni a persone o cose. A muoversi è la faglia Alfeo-Etna, una enorme struttura sismogenica ubicata nel mar Ioni occidentale, che corre anche lungo i Monti Blei. È questa la spiegazione dello sciame sismico che nelle ultime 24 ore ha interessato la Sicilia sud-orientale, tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa. È uno studio pubblicato lo scorso 10 marzo sulla rivista internazionale Geoscienze, che porta la firma anche dal professore Carmelo Monaco, del Dipartimento di Scienze Biologiche e Geologiche Ambientali dell'Università di Catania, a studiare il funzionamento di questa grande faglia. I dati geologici e geofisici acquisiti a mare, con diverse navi oceanografiche a partire dall'agosto 2014, mostrano come la zona di deformazione della faglia Alfeo-Etna modifichi chiaramente il fondare marino a largo della costa ionica, collegandosi lungo la timpa di Acireale, con i sistemi di fagli attivi del versante orientale dell'Etna. E ancora a cronaca, parliamo dei controlli dei carabinieri nel Nisseno. Durante la festa dell'Immacolata sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta. Sono stati verificati 89 automezzi, elevate 11 contravvenzioni al codice della strada, ritirate due carte di circolazione e identificate 163 persone, otto le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 250 mg di metadone e un grammo di marijuana, per cui al termine degli accertamenti è stato segnalato alla Prefettura un soggetto quale assuntore di sostanze stupefacenti e tre persone all'autorità giudiziaria, un 32enne di San Cataldo trovato in possesso senza giustificato motivo di 12 flaconi in plastica, ciascuno contenente 20 mg di metadone e due 31enni di Caltanissetta che a bordo di una Fiat Punto durante un posto di controllo non rispettavano l'alt dei militari, proseguendo la marcia al fine di eludere i controlli e venendo bloccati al termine di un breve inseguimento per le vie cittadine. Al termine degli accertamenti il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, pertanto veniva deferito per guida senza patente. Entrambi sono stati denunciati per esistenza pubblico ufficiale. Nella serata di mercoledì caduta di calcinacci in via Red Italia, l'intervento dei vigili del fuoco. Mercoledì sera, a causa di una caduta di calcinacci da un balcone, la polizia municipale ha bloccato e chiuso la via Red Italia all'angolo con via San Calogero. Tempestivo e pronto, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e ripristinato la regolare viabilità, bloccata dalle ore 20 circa. Non si sono registrati danni a cose o persone, ma solo tanto spavendo per alcuni pedoni e automobilisti che si trovavano nei pressi dell'accaduto. Il Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato della Funzione Pubblica ha emesso il decreto per ripartire più di un milione di euro tra le unioni di comuni che ne avevano fatto richiesta lo scorso agosto, con l'obiettivo di rendere più funzionali ed efficaci i servizi resi ai cittadini. L'importo complessivo è di 1 milione e 37 mila euro, di cui 550 mila a valere sul bilancio della regione siciliana e 555 mila euro circa a carico dello Stato. A fruire delle misure di sostegno integrato 24 unioni. Si sono aggiudicate il contributo più rilevante di 90 mila euro ciascuno, Ibleide, Chiara Montegulfi, Giarratana e Monterosso-Almo nel Ragusano, Platani-Quischina-Magazzolo, Bivona-Cianciana, San Biagio-Platani e Santo Stefano di Quischina nell'Agrigentino, Comuni dei Nebrodi, Longi, Frazzano e Mirtonel-Messinese. L'Associazione Noi per la Salute chiede un incontro con la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale. È sulle case di comunità previste negli interventi del PNRR Missione 6 che guarda anche alle centrali operative territoriali e agli ospedali di comunità che l'Associazione APS Noi per la Salute e Tinan Selmi chiede un incontro per ricevere chiarimenti dalla Direzione Generale dell'Asp di Caltanissetta. Il riferimento alle case di comunità, dicono i rappresentanti dell'Associazione, sono indicate come sedi Mussumeli, Caltanissetta, Riesi, Mazzarino, San Cataldo e Niscemi da allocare in strutture già esistenti e tre sedi in strutture nuove individuate nelle città di Sommatino, Gela e Serra di Falco. Proprio l'Associazione Noi per la Salute avrebbe constatato l'assenza di una casa di comunità per le esigenze sanitarie della zona della provincia che comprende Santa Caterina, Resuttano, Marianopoli, Vallelunga e Villalba. E quindi chiedono alla Direzione Generale dell'Asp quali siano stati i criteri che hanno indotto alla decisione di considerare la possibilità di dotare quella zona che già vive di disagi ed è costituita prevalentemente da una popolazione anziana affetta per lo più da patologie croniche sia per mobilità che per dotazione di servizi di una casa di comunità da allocare all'ex ospedale Castelnuovo di Santa Caterina che è di proprietà dell'Asp. Sempre l'Associazione non condivide la decisione dell'Asp che prevede tre case di comunità nell'ambito territoriale di Riesi, Mazzarino e Sommatino ed ha proposto il riferimento alla programmazione degli ospedali di comunità vista la particolare situazione del territorio anche per i dati epidemiologici della popolazione che l'ospedale fosse individuato dove vi era all'interno quello dell'ospedale Maria Immacolata Lungo di Mussomeli. Sulla questione il Direttore Generale dell'Asp ha dichiarato su questo aspetto il quadro è chiaro, il programma PNRR è definito con tutti i sindaci ed approvato dalla Regione, dobbiamo solo attuarlo nelle modalità e nei tempi previsti dal piano stesso. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato le variazioni di bilancio la manovra da oltre 420 milioni di euro predisposta dal governo Schifani confermate tutte le principali misure proposte dal governo a partire dai fondi destinati ai comuni ai quali vanno 48 milioni di euro e i liberi consorsi che ne riceveranno 4 milioni per contrastare l'effetto del caro bollette. Per la spesa sanitaria sono stati accantonati 250 milioni di euro per dare seguito a una sentenza della Corte Costituzionale. Alla contrattazione collettiva del personale della Regione sono stati destinati quasi 29 milioni di euro mentre per il fondo condensiosi sono previsti 44 milioni. E adesso cambiamo argomento. Lavori sulla Caltanissetta Gela firmata all'intesa tra Presidente della Regione e Commissario straordinario. Continua l'impulso del Governo regionale al fine di accelerare l'iter burocratico necessario per il miglioramento delle infrastrutture siciliane. Nella fattispecie c'è l'intesa fra Stato-Regione per i lavori sulla Caltanissetta Gela. È stato formalizzato infatti l'accordo tra il Presidente della Regione Renato Schifani e il Commissario straordinario dell'Opera Raffaele Celia. La legge prevede che per le opere commissariate sia necessario questo passaggio in vista del progetto definitivo. Si tratta di un passaggio importante che permetterà di completare l'iter per approvare il progetto definitivo dell'opera dice il Presidente Schifani e dalla Regione è arrivata immediata la firma dell'accordo. Tra gli obiettivi programmatici del mio Governo c'è quello di accelerare gli iter burocratici soprattutto quando si tratta di opere fondamentali per il territorio. Il progetto riguarda i lotti 7-8 della strada statale 626 Valle del Salso più conosciuta come Caltanissetta Gela e il completamento della tangenziale di Gela tra la strada statale 117 bis e la stessa strada statale 626. L'opera commissariata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha già ricevuto tutti i pareri necessari attraverso una conferenza di servizi e adesso occorrerà perfezionare gli atti relativi al finanziamento e approvare il progetto definitivo. Fondi per 80 milioni di euro saranno erogati dall'assessorato dell'agricoltura per 16 progetti integrati di filiera di tre settori strategici il florovivaismo, la frutta in guscio, mandorle, pistacchi nozzole e la zootecnia. Si tratta, spiega l'assessore regionale Luca Sanmartino di una misura fondamentale per rafforzare la competitività del sistema e per sostenere concretamente le aziende della Sicilia migliorandone la capacità di produzione e di penetrazione dei loro prodotti nei mercati internazionali. E adesso parliamo della processione dell'Immacolata Concezione a Caltanissetta. Al grido di Viva Maria Immacolata è cominciata la processione dalla cattedrale dell'Immacolata Concezione che per la Chiesa Cattolica, infatti, ogni essere umano nasce col peccato originale e solo la Madre di Cristo ne fu esente. L'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes e questa festività era già celebrata in Oriente nell'VIII secolo e venne importata in Italia dai monaci bizantini. Adesso, per dieci giorni, il simulacro dell'Immacolata resterà a San Francesco fino al 18 dicembre, quando poi ritornerà in cattedrale. C'è una devozione molto forte nel popolo santo di Dio, sia nel popolo devoto che segue, ma anche, direi, a livello sociale, perché la festa solennità dell'Immacolata segna l'inizio del clima natalizio onorando la Vergine Maria Immacolata, degna di mora, del figlio che sarebbe nato da lei per virtù dello Spirito Santo. Il nostro popolo, dall'antichità, diciamo, ha sempre onorato Maria con grande rispetto, anche nelle tradizioni orientali ci sono bellissimi canti alla Teotocos, alla Maria, Madre di Gesù, Madre di Dio. E noi non siamo da meno, nelle nostre tradizioni popolari, ogni giorno qui cantiamo la novena all'Immacolata con canti siciliani, per esempio c'è Dio salvi regina, signora immacolata, voi siete l'avvocata dell'arma mia. Ci sono espressioni che sono certo figlie del tempo, datate possiamo dire, però che esprimono i sentimenti profondi di amore e di devozione a Maria, al suo ruolo di mediatrice delle grazie, l'avvocata, con lei che ci difende davanti al suo figlio, che ci invita alla conversione, al cambiamento della nostra vita. Diciamo che si fa compagna nostra in questo tempo dell'Avvento, Maria, porta dell'Avvento, nostra sorella in questo cammino. Festeggiamenti in onore dell'Immacolata Concezione anche a San Cataldo. Con un applauso i numerosi fedeli presenti davanti la Chiesa Madre di San Cataldo nella tarda mattinata dell'8 dicembre hanno mostrato la propria devozione nei confronti di Maria Santissima Immacolata, quando l'arciprete parroco Alessandro Giambra ha consegnato, grazie all'ausilio dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, una corona di fiori, solenne atto di venerazione della città alla statua dell'Immacolata Concezione che si trova sulla facciata della stessa Chiesa. Un momento grande, desiderato, voluto, proprio perché la pandemia ci ha impedito di celebrare le feste, le processioni. Io dico che anche Maria voleva uscire, ritornare in mezzo al suo popolo. Ieri c'è stata una giornata bellissima anche con la incoronazione e vorrei ringraziare veramente sempre della disponibilità e i Vigili del Fuoco che ci hanno dato questa possibilità di salire fino nella facciata della nostra madrice per mettere la corona alla Vergine Santissima. Una giornata di grande emozione per i devoti della cittadina sancataldese. C'era un silenzio, una commozione, anche perché San Cataldo sta vivendo un momento tragico per la morte di tanti suoi figli. La giornata si è poi conclusa, subito dopo la Santa Messa Solenne preseduta da Fra Eugenio Caramia con la processione sino al santuario Santa Maria delle Grazie lungo il tradizionale percorso. Bel percorso con i tanti portatori che esprimevano questa gioia incontenibile e le persone che applaudivano passando la Vergine Santissima e loro che guidavano e guidavano tutti. Viva Maria Immacolata, viva la nostra regina, la nostra mamma. L'Immacolata farà poi ritorno in Chiesa Madre questa domenica. si prevedono ulteriori appuntamenti in parrocchia nelle prossime settimane a partire da lunedì 12 dicembre, con un momento in ricordo di Monsignor Cataldonaro. Monsignor Cataldonaro, arcivescovo di Monreale, è stato consagrato il 14 dicembre 2002 ed è stato arcivescovo fino al 2006. Quest'anno coincide il ventesimo della sua consagrazione. Lui è stato consagrato nel 40esimo anniversario dell'apertura del Coniglio Vaticano II. Quest'anno invece celebramo il 60esimo e verrà a presiedere questa Eucaristia giorno 12, qui alla Matrice, alle ore 18, Monsignor Raspanti, che è il presidente della Conferenza Siciliana dei Vescovi. Rimaniamo in tema di festa, la Piazza del Natale, per un mese nel capoluogo nisseno. Ieri sera si sono accesi i riflettori sulla Piazza del Natale, il villaggio allestito in Piazza Garibaldi, che per un mese fino all'8 gennaio allietterà le festività dei nisseni con musica, divertimento e giochi per bambini, in un programma ricco e variegato, realizzato grazie al coinvolgimento di associazioni ed espositori. La Piazza ospiterà il Natale, con un progetto ideato per soddisfare tutte le esigenze, dai grandi ai bambini, con la presenza degli espositori nelle casette di Natale, dove la Piazza diventerà un luogo magico in questo periodo di festività natalizie. L'aria che oggi si respira qui in centro è veramente da natalizia, sta sicuramente anticipando bene quello che saranno queste feste. Nelle prossime giornate ci saranno tantissimi altri eventi, quindi vi invitiamo chiaramente a partecipare, a rimanere in contatto con le nostre pagine Facebook e il sito della Piazza del Natale per vedere tutti quelli che sono gli eventi che abbiamo proposto. Ancora una volta un lavoro sinergico con quanti hanno voluto realizzare qualcosa di importante nel nostro centro storico. Oggi è meraviglioso vedere la risposta di tutti i cittadini che si stanno recando qui nella nostra piazza, pertanto ci auguriamo di vedervi tutti i weekend, perché per tutti i weekend ci saranno degli eventi organizzati per alietare i grandi e i piccini. Abbiamo un cocktail perfetto, abbiamo gli espositori con il loro artigianato, con i prodotti enogastronomici di qualità e della nostra terra e quindi che insieme agli eventi e all'obbistica e all'oggettistica varia arricchiscono sempre di più il nostro villaggio. E adesso parliamo di solidarietà raccolta di giocattoli su iniziativa del Rotaract Club di Caltanissetta e della Proloco Nissena. È già possibile portare i giocattoli in buone condizioni, sia usati che nuovi, nei locali dell'Infopoint della Proloco di Caltanissetta, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, tutti i giorni da lunedì alla domenica, per contribuire all'iniziativa di solidarietà organizzata da Rotaract Club di Caltanissetta e dalla locale Proloco. Già da anni collaboriamo con il Rotaract e proprio quest'anno abbiamo deciso insieme di fare una raccolta di giocattoli usati, ovviamente in buone condizioni, da donare poi a due associazioni che si occupano giornalmente anche dei bambini, ovvero l'associazione Sant'Agata e la Caritas della Cattedrale. Quindi faremo quasi un mese di raccolta nei locali del punto informativo, per poi poco prima di Natale, probabilmente il giorno 22, e faremo proprio la consegna di questi doni. Quest'idea nasce proprio dall'unione dell'idea tra noi e la Proloco e il 22 consegneremo giocattoli ai bambini con tanto di Babbo Natale, uno stuolo di Elfi e Renne e proprio nel clima natalizio del dono, questo dono reciproco, senza nessuna ambivalenza nel suo termine, proprio riconducendolo a quello che è la sua etimologia stessa, il munus, quindi da lì comunità, coloro che prendono parte ai munia e noi invitiamo tutti quanti a prendere parte a questi munia, perché noi doneremo loro questi giocattoli, è vero, ma in realtà riceveremo qualcosa di molto più grande di questo, che è la gratitudine di questi bambini, la loro felicità, il loro calore, ma soprattutto il loro sorriso, per cui invitiamo tutti quanti a prendere parte in questa comunità, a prendere parte ai munia, in modo da scaldarci vigentevolmente il cuore. Non si tratta dell'unica attività in questo periodo natalizio per il club nisseno, che è anche tra gli organizzatori del concerto di Natale in programma il 19 dicembre alle 21 nella parrocchia di San Pietro. Questa iniziativa per noi infatti si inserisce nel percorso dello scrino dei sogni, che sono una serie di progetti che stiamo portando avanti per i bambini con l'associazione di Sant'Agata e inoltre svolgeremo anche il concetto di Natale insieme al Rotary, sempre per finanziare questi progetti che saranno destinati in parte ai progetti per i bambini e in parte anche per dei progetti che riguardano i diversamente abili. Sono state accese le luci anche nel presepe allestito nel quartiere Provvidenza. Sentiamo. Un presepe allestito nella piazzetta fuori dagli schemi. Questa è l'idea iniziale del comitato di quartiere Provvidenza San Giuseppe in occasione delle festività natalizie e che è stata poi tradotta dall'estro artistico di Antonio Alberto Foresta nella Famiglia Universale. Il nome dell'installazione è realizzata in una sola giornata con il coinvolgimento anche di Migrantes e che rappresenta la natività avvolta in coperte termiche. Una famiglia tratta in salvo dal mare in questo caso un mare fatto di tessuti caratteristica spesso presente nelle installazioni dell'artista originario di San Cataldo ma che attualmente vive a Caltanissetta città in cui ha lasciato in passato anche altri segni del proprio talento permanenti o temporanei come in Via Leone XIII o ancora a Pace Nostra nel 2020 nella salita Matteotti e Famiglia nel 2021 sul Monte Sabucina a Santa Barbara. È un'attività un po' particolare è diverso dal solito ho accolto l'invito di Marco insomma a realizzare un presepe era questa la richiesta principale in realtà poi ho deciso di raccontare una storia un po' come faccio spesso nelle mie installazioni ed è una famiglia una famiglia di oggi una famiglia che arriva dal mare viene subito accolta con queste coperte termiche quindi piuttosto che avere le classiche classici vestiti e vestiari della Madonna o di San Giuseppe e Bambino qui sono dei migranti e quindi è un racconto di oggi e poi il tutto su un mare di vestiti che è un po' il tratto stilistico insomma di ciò che realizzo spesso io. Ho semplicemente raccolto con l'aiuto anche di Migrantes tutti i panni, vestiti, abiti, stoffe e poi non l'ho neanche selezionato ho voluto proprio bloccarle così per come mi erano arrivate l'ho realizzato peraltro anche insieme ad alcuni bambini curati da Migrantes che ieri pomeriggio mi hanno aiutato a legare, cucire tutte le stoffe. La natività di Antonio Alberto Foresta potrà essere ammirata nel quartiere Providenza fino al 6 gennaio. Vediamo che in qualche modo i volti non sono visibili sono coperti perché rappresentano persone una storia non è obbligatoriamente la storia di qualcuno ma è la storia di tutti e questo è un po' il messaggio che mi piace sempre mandare ed è quello su cui in qualche modo mi batto di poter esprimere. Addobbato l'albero di Natale della questura di Caltanissetta dai poliziotti delle volanti in un post sui social gli agenti augurano così buone feste ai cittadini nisseni impegnandosi in una delle più diffuse osanze natalizie la preparazione dell'albero proprio l'8 dicembre durante la festa cattolica dell'Immacolata Concezione. Dalla questura fanno sapere inoltre anche nel lungo periodo delle festività natalizie i nostri agenti saranno operativi e garantiranno i necessari servizi di controllo del territorio. E adesso parliamo di uno spettacolo la Divina Commedia per la regia di Aldorapè. Uno spettacolo evento quello di oggi a partire dall'eventuno che vedrà aprire il sipario del Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta per la messa in scena della Divina Commedia per la regia di Aldorapè che in chiave del tutto nuova ripercorre il viaggio del sommo poeta Dante. È una scommessa perché mettere in scena la Divina Commedia in poco più di un'ora è una scommessa. Noi abbiamo fatto uno studio che è durato quasi un anno già l'avevamo messa in scena lo scorso anno in una forma di studio quest'anno l'abbiamo ripresa e credo che vada vista perché Dante ci parla Dante parla ad ognuno di noi lo fa in maniera semplice molto popolare non così complicata e ci dice che in questa vita c'è un inferno c'è un purgatore c'è un paradiso in questa vita non parla di altri mondi strani e sta a noi scegliere da che parte stare dove vogliamo vivere parla di noi dei nostri vizi parla del desiderio sono tre cantiche che hanno a che fare col desiderio con la mancanza delle stelle non a caso Dante le tre cantiche ce le chiude con la parola stelle non a caso e ci dice che si può sognare vivere bene proprio con i piedi per terra ma con lo sguardo sempre rivolto verso il cielo e poi ci racconta questa straordinaria storia d'amore tra Dante e Beatrice io analizzando con i ragazzi ci siamo detti che forse in verità l'ha scritto solo per questo perché Beatrice amore giovanissima lui innamoratissimo di Beatrice si è inventato semplicemente 99 canti per rivederla e per poterla di nuovo riabbracciare quindi è anche una storia d'amore che raccontiamo in scena con i 60 performers giovani attori danzatori e cantanti anche gli attori professionisti Gianluca Mancuso e Carlo Greca l'evento nasce dalla collaborazione tra Camper Connessioni Prima Quinta Fly Dance e Mast 79 e saremo anche nella stagione del Cineteatro Grivi di Enna il 12 dicembre la fenità la prima è sempre solo negli spettacoli che proponiamo intanto puramente didattica e semplice far tirare fuori dai cassetti che abbiamo proprio la Divina Commedia per andarla a rileggere perché è realmente contemporanea e quando l'abbiamo presentata abbiamo detto che è una commedia pop ma perché penso che sia così Passiamo allo sport calcio la domenica delle Nissene San Cataldese sul campo della Mariglianese biancoscudati contro il Mazzara al Tomaselli Archiviata la buona prestazione di domenica scorsa contro il Catania la San Cataldese tornerà in campo per la quindicesima giornata del campionato di Serie D la squadra allenata da Pietro Infantino giocherà in trasferta sul campo della Mariglianese ultima della classe impegno insidioso per i Verdi Amaranto chiamati a una prova di carattere in palio punti pesanti per la salvezza ora c'è una partita con la Mariglianese che è ultima per noi sarà lo stesso andiamo lì a fare la stessa gara che ha fatto col Catania perché se cambiamo atteggiamento si diventa un po' presuntuosi si sta lì sotto e questo è un convito nostro il quadro completo delle partite in programma Catania Real Aversa Sant'Agata Canicattì Cittanova Castrovillari Licata Trapani Locria Cireale Paternò Lamezia San Luca Ragusa Mariglianese San Cataldese Vibonese Santa Maria Nel campionato di eccellenza la Nissa si appresta al debutto sul nuovo manto sintetico dello stadio Tomaselli i biancoscodati reduci dalla sesta sconfitta stagionale a Leonforte vogliono tornare alla vittoria servono i tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica ma non sarà facile siamo felici siamo contenti abbiamo voglia di giocare già in questo campo che è bellissimo che è un'altra categoria ci siamo allenati la verità che è un campo che ci fa impazzire che si può giocare un calcio vero fortunatamente ce l'abbiamo noi aspettiamo che tutta la gente fa come ha fatto finora e ci accompagni questa domenica vi invito a venire a goderci questa partita in questo campo che è bellissimo penso che i tifosi sono di gran aiuto penso che in casa noi abbiamo fatto un fortino anche se ci è toccato giocare al Palmin Teli penso che là ci siamo andati benissimo e penso che questa domenica inizieremo un bel percorso qua al Tomaselli a Caltanissetta arriverà il Mazzara una squadra in crescita che punta ai primi posti della graduatoria i canarini che domenica scorsa hanno superato ampiamente lo Sciacca con un perentorio 2 a 0 inseguono l'ottavo acuto il quarto fuori dalle muramiche una squadra da rispettare una squadra che ha fatto dei punti che là su ha delle sue arme però noi pensiamo a noi pensiamo a fare bene penso che se noi facciamo se noi facciamo vedere la Nissa che si ha fatto vedere con altre squadre che sono là su penso che ci darà soddisfazione tutte le partite della quattordicesima giornata Castellammare E ancora sport volley Serie B2 Alba Verde Caltanissetta Saracena sabato alle ore 18 al Palacanizzaro impegno casalingo per l'Alba Verde Caltanissetta per la decima giornata del campionato di volley femminile le giocatrici nissene saranno di scena al Palacanizzaro sabato 10 dicembre contro la Saracena dove tenteranno di consolidare il primato in classifica e cercare di inseguire l'ennesimo 3 a 0 stagionale la classifica del girone M appena superato un terzo del percorso comincia a definire le posizioni in testa con le prime tre squadre racchiuse nello spazio di due punti e le inseguitrici della squadra nissena ovvero Zafferana e Pallavolo Crotone giocheranno entrambe in trasferta la prima in terra calabra contro la Gioiosa e la seconda a comiso contro l'Ardenz ma ecco il quadro completo della decima giornata del campionato di volley femminile serie B2 girone M sabato pomeriggio oltre il match casalingo del palacannizzaro contro la Saracena l'Alba Verde avvierà una raccolta di giocattoli nuovi o usati da regalare ai bambini più bisognosi la società presieduta da Oriana Mannella invita i nisseni ad aderire a questa iniziativa benefica che sta particolarmente a cuore alla società nissena dell'Alba Verde bene anche per oggi dunque è tutto non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo e le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito ben trovati in aggiornamento con previsioni di Trabi Meteo giornata di sabato quando tutta l'Italia sarà ancora alle prese con una circolazione di bassa pressione che evicolerà delle precipitazioni nel dettaglio possiamo notare di fatti la molta variabilità attesa sulle nostre regioni zoom precipitazioni con delle piogge in giornata attese in particolar modo sul centro-sud Italia anche la Sardegna non mancheranno comunque delle paese asciutte però possiamo notare come impulsi perturbati da ovest da più riprese raggiungeranno la nostra penisola nel dettaglio ecco la previsione con una giornata di gran variabilità specie nella seconda parte del giorno piogge rovesci sparsi al centro-sud in particolar modo regioni centrali Sardegna peggiora anche al nord tutti i dettagli precisi gli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Eufrate Viale Stefano Candura Servizio notturno San Pio X Via Napoleone Colai Anni Viale Stefano la città aiutare la città l'app su cuore di